Siamo qui a Milano Winter Show con Vittoria Fuser, abbiamo saputo che ieri è nata bene la gara. Sì, posso ritenermi soddisfatta, ho fatto la 1,50 con la mia cavalla, Urianne di 9 anni, e sono molto contenta perché comunque sono venuti due errori diciamo abbastanza stupidi e il resto del percorso invece l'ha affrontato molto bene, quindi sono davvero contenta. E per questa sera come ti prepari? E per questa sera mi preparo diciamo mentalmente, quindi cercando di essere carica al massimo e poi niente, mi preparo come tutte le altre volte, mente diciamo libera e positiva. I tuoi programmi dopo il Milano Winter Show quali sono? I miei programmi non lo so ancora, c'era in programma di fare la Corugna, dove ci sarà la Coppa del Mondo, però non penso più che andrò per varie cose, quindi per adesso non so ancora. Dai speriamo di portarti buona fortuna dopo questa intervista per questa sera e ti ringraziamo molto per questa intervista. Grazie.